Nei mercati di Campania Amica si sviluppano tanti progetti di solidarietà tra cui Fa Bene. Da alcuni anni nei mercati domenicali di Campania Amica di Torino è possibile regalare un prodotto oppure fare una donazione in favore delle famiglie bisognose del territorio. Fa Bene è un progetto lanciato nel 2014 da Snodi Caritas, sostenuto dal 2018 dai fondi di Aperto, programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. Il progetto è attivo da anni in sette mercati torinesi sensibilizzati e coinvolti da Coldiretti Torino, Piazza Madama Cristina, Piazza Foroni, Corso Spezia, Via Onorato Vigliani, Via Don Grioli, Tettoie dei Contadini di Portapalazzo e Corso Svizzera. Dal settembre 2020 anche i produttori della rete di Campania Amica sono coinvolti nella raccolta di cibo per il progetto Fa Bene. Ogni domenica, recandosi al mercato, i consumatori possono donare o regalare prodotti freschi e distribuiti a chi è più in difficoltà. Un progetto che da qualche settimana è arrivato anche a settimo torinese. E con la nostra intervista Michele Calleri, responsabile del progetto Fa Bene. Noi siamo presenti come sempre ogni domenica sul mercato di Campania Amica con i nostri volontari. Il progetto procede ingrandendosi di settimana in settimana e introducendo anche nuovi mercati. Da due settimane, questa sarà la terza, saremo presenti anche sul mercato di Campania Amica di Settimo con dei volontari locali e applicheremo il concetto della spesa sospesa anche su quel mercato. Quindi gli acquirenti che hanno voglia di comprare qualcosa in più e di donarlo per le famiglie bisognose, in questo caso della città di Settimo, potranno farlo anche su quel mercato. Su Torino stiamo introducendo nuovi servizi sul mercato e i nostri volontari saranno a supporto di questi servizi perché possano essere sperimentati e resi disponibili per il pubblico nel più breve tempo possibile. Un progetto che viene ben accolto anche per la pandemia in corso? Assolutamente sì, noi contiamo che questo supporto possa essere d'aiuto per le persone che magari non hanno piacere di frequentare il mercato ma preferiscono ritirare la loro spesa più comodamente in un punto unico o riceverla direttamente a casa. Quindi cerchiamo con la nostra presenza e con il nostro aiuto di rendere possibile anche questo, un servizio in più che il mercato introduce e che rinnova un servizio che è presente da sempre sulle piazze di Torino ma che oggi diventa più moderno e più dinamico.